Se bisogno di capire dove stai e con chi stai oggi, che questo è il governo dei vorrei ma non posso. Perché sbaglia Zingaretti ad andare avanti con questo governo? Io non dico che sbagli ad andare avanti, io dico che, lo ha ripetuto lui in questo momento, finora forse è stato il Partito Democratico un po' troppo timido nel chiedere, nell'esigere dal principale alleato di governo quel salto di qualità che rende diverso il governo giallorosso dal governo gialloverde. Da questo punto di vista... Ma fai un esempio, perché non ci sarebbe stato questo salto di qualità? Ma perché il primo esempio che viene in mente ed è il più facile è quello che riguarda i decreti sicurezza, per la banalissima ragione che erano inseriti nell'accordo di governo quando il patto tra 5 Stelle e il Partito Democratico è stato siglato e finora di quella revisione richiesta dal Presidente della Repubblica con tanto di lettera per motivi che erano legati alla natura criminogena di quei due decreti di Salvini, non c'è nessuna traccia. Ecco, per un attimo lo devo chiedere.